10 buoni motivi per imparare l'italiano, podcast italiano di livello B2. Quali sono i 10 motivi principali per imparare l'italiano? Ecco la mia lista. 1. La semplicità. L'italiano è una lingua facile da imparare se parlate già l'inglese o una lingua romanza come il francese, lo spagnolo o il portoghese. Diciamo che può essere una buona scelta iniziale se non volete studiare lingue più impegnative. 2. Il legame con il latino. Fra tutte le lingue romanze, l'italiano è quella più simile al latino. Il latino è la lingua del mondo accademico, degli scienziati. Molte parole usate in medicina, chimica o biologia hanno origine greca o latina. Se capirete queste parole, potrete arricchire il vostro bagaglio culturale. 3. L'eleganza. L'italiano è sofisticato. Come le altre lingue romanze, potete impressionare la gente usando parole di origine latina che sono molto comuni nell'italiano parlato ma molto rare nell'uso quotidiano di altre lingue. Anche nell'ambulatorio medico del villaggio più piccolo e sperduto delle Alpi sentirete delle persone usare parole come gastroenterite, artrite o cefalea con la stessa consapevolezza di quando parlano di cibo o della loro famiglia. 4. La cucina. Potete imparare i segreti della cucina italiana leggendo le ricette direttamente in italiano, senza seguire delle versioni tradotte male nella vostra lingua. Ogni ricetta avrà un sapore migliore con un pizzico di italiano in più. 5. I motivi sentimentali. In passato molti italiani sono emigrati nel resto d'Europa e in America e sono sicuro che molti di voi hanno almeno un parente che viene dall'Italia. L'italiano vi offrirà la possibilità di riscoprire la vostra identità, la vostra cultura e le vostre origini, parlando con i vostri parenti rimasti in Italia. 6. Scoprire il paese. Vale sempre la pena di fare un viaggio in Italia, in particolare durante la pausa estiva. Studiando l'italiano avrete la possibilità di capire meglio la storia e la cultura italiana. 7. I gesti. Se avete troppe difficoltà nel parlare, potete usare i celebri gesti per soddisfare i vostri bisogni primari. Un italiano vi capirà al volo e vi potrà aiutare in qualunque momento. 8. Essere apprezzati dagli italiani. Gli italiani impazziscono per le persone che parlano nella loro lingua. Saranno così affascinati che vi troveranno subito simpatici e vi accoglieranno bene. 9. L'economia. Dal design alla moda ai prodotti di lusso. Anche se la crisi economica ha colpito pesantemente il paese, l'Italia è uno dei paesi più influenti dell'Unione Europea. Gli italiani. Ci sono più di 60 milioni di madrelingua italiana. Questo significa avere 60 milioni di potenziali amici, partner o colleghi con cui ridere e passare il tempo. Direi che abbastanza. Vi ho convinto? Spero di sì. E voi? Perché studiate l'italiano? Lasciate un commento qui sotto. Ci vediamo. Ciao!